Ciao ragazzi, mi convinti, ma non vi assumeto per poter fissare il blu con insieme al libre senza l'utilizzo di una fascia. Normalmente nel braccio si può utilizzare una di quelle fasce con i supporti che lo tengono fermo ormai ne hanno inventati o se no ti potrebbe utilizzare un calzino ben stretto che te lo tiene attaccato sul braccio e questi sono sul braccio del posto ufficiale c'è qualcuno che però utilizza posti non ufficiali che però sono ufficiali tipo per il deskom tipo la parte alta del sedere o anche sulla coscia anche se è l'unico posto ufficiale del braccio e in quel caso si potrebbe ricorrere a un adesivo vi faccio vedere come si potrebbe fare ma questo vale anche per il braccio allora innanzitutto siccome si viene a creare una colonnetta più grossa e quindi un eventuale mettiamo uno batte il braccio su uno spigolo è più facile che faccia leva e si toglie va tutto rinforzato al massimo possibile per il massimo possibile utilizzerei il mastisol che veramente è proprio molto molto forte allora il mastisol si prende questo non è il mastisol ma costa meno quindi faccio vedere è acqua si fa un cerchietto un cerchietto ok in modo che aderisci l'esterno ma rimane libero il buco quindi al momento che tu lo spari la pelle senza massisol entra l'aco normalmente ma l'adesivo intorno rimane molto molto rinforzato normalmente nei forum sta girando l'idea di lasciarli metterlo 24-48 ore prima in maniera tale che al momento che si attiva partono direttamente i dati i dati buoni senza bisogno che si assesti il libre comunque se no ho uno una volta che l'ha messo così lo metto così poi andrei sopra con l'adesivo ora sto utilizzando questo qua ma questo è solo per farvi vedere perché l'adesivo che vi consiglio allora adesso vi faccio vedere una volta messo questo così il libre si blocca con un foglio molto ampio e quindi il libre è doppiamente bloccato doppiamente sicuro che non si muove che non si muove da lì ok? l'adesivo invece che vi consiglio è questo che sono Opsi Flexix che lo vendono su Amazon e che una volta tolto è una pellicola sottilissima anche elastica e anche impermeabile completamente impermeabile quindi una volta messo in questo modo questo sarà proprio protetto tantissimo anche dall'acqua sopra questo possiamo andare a mettere il blue cone e sopra il blue cone dirò un nuovo strato che si andrà a attaccare qua sopra io come nuovo strato utilizzo sempre questo qua perché questo qua me l'hanno mandato per sbaglio Amazon ecco qua allora vi faccio vedere un secondo strato che va sopra stendo trasparente avremo sempre la possibilità di vedere il buchino ok? così e in questo modo e in questo modo diciamo teoricamente potrebbe essere anche impermeabile anche se insomma non rischierei al momento che magari uno deve fare deve fare una doccia con delle forbicine piano piano uno potrebbe piano piano tagliare sotto così di vari pezzettini piano piano fino a che togli lo puoi togli per la doccia strappi via tutto però tanto la parte sotto rimane attaccata e poi dopo si potrebbe rimettere sopra ecco qui poi magari rimane magari pure un po' appiccicato si potrebbe prenderli e rimettere di nuovo e rimettere di nuovo con un altro strato ampio di questa qua ecco questa potrebbe essere un modo un modo di fissarlo con questo qua però con questo materiale qua vabbè tanto questa è un'idea poi dopo la maggior parte delle persone lo metterà semplicemente sul braccio con il calzino o con o con le fascette o con le fascette però magari in alcune situazioni potrebbe potrebbe risultarvi utile questa mia idea ciao ciao